No, io non me ne fanno più. Assolutamente sino all'estinzione corporea. Se saranno fatti con decreti, con dentro queste cialtronerie vergognose contro gli italiani, lo faremo, vengo anch'io stavolta. E allora quello che si permetterà di dare uno schiafo alto 1,90, una di 1,60 e poi lui prendere la scorta. Questo è un mondo rovesciato. Andate a casa, appendetevi per i piedi a una trave. Guardatelo rovesciato questo mondo, capirete un sacco di cose. Grazie.